La Regione e il Colap si attivino per trasferire all'RFI le aree necessarie per realizzare il collegamento ferroviario tra il porto di Gioia Tauro e la rete ad alta velocità. Lo chiede la deputata del PD Enza Bruno Bossio. Nel corso del Question Time in Commissione Trasporti è stata discussa l'interrogazione della parlamentare calabrese sul collegamento ferroviario tra il porto di Gioia Tauro e la rete ad alta velocità. Tra i problemi sollevati alcuni sarebbero legati alla titolarità di alcune particelle catastali che di fatto impediscono la realizzazione dell'opera. Il Ministero delle Infrastrutture conferma l'esecuzione del collegamento entro il 2026 ma non chiarisce la questione catastale. Sul collegamento porto-ferrovia da anni ci sono rallentamenti legati al trasferimento di alcuni terreni. Nel 2020 era stata approvata in Commissione Bilancio una norma che perfezionava il passaggio del tratto ferroviario dal Corap alla Regione e poi ad RFI. Sono trascorsi quasi due anni e ci ritroviamo in una condizione di totale incertezza che limita fortemente le potenzialità del più grande terminal di trascipment in Italia, dice Bruno Bossio. Diventa urgente porre fine a questa storia infinita. Un problema di ordine burocratico non può impedire il pieno sviluppo del porto di Gioia Tauro.